Ciao a tutti, la ricetta che faremo oggi sono i banana pancake nella versione vegana, la versione classica la trovate nella i e nel box informazioni quindi io vi lascio la ricetta ricordandovi che sono vegani, ideali per chi è leggero al nickel, per chi è intollerante al lattosio e anche per chi è celico, buona visione gli ingredienti sono una banana piccola che pesa circa, senza buccia, circa 80 grammi, più o meno è il peso di una banana piccola, mi raccomando che la banana sia matura 5 cucchiai di latte di riso e 3 cucchiai di farina di riso la prima cosa da fare è mettere la banana in una ciotola e schiacciarla con la forchetta adesso aggiungete il latte di riso e la farina di riso e amalgamate questa è la consistenza del composto, la consistenza che otterrete prendete ora una padella antiaderente, la mia è con la certificazione senza nickel proprio e con un fazzoletto imbevuto d'olio la oliate vi trasferite sui fornelli a fuoco medio basso formate, vi faccio vedere, i pancake aiutandovi con il cucchiaio semplicemente gli date la forma del pancake e li fate cuocere un minuto per lato aiutatevi a girarli con l'aiuto di un lecca pentola ed eccoli qui una volta cotti con la dose che vi ho dato vi verranno circa 5 pancake piccolini io spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al canale e condividete il video con tutti i vostri amici noi ci vediamo al prossimo video, ciao!